Terza vittoria consecutiva lontano dal Bonolis per il Teramo e tre punti pesanti come Macigni in ottica salvezza. Alla città di Gorgonzola, allo stadio della Gianna Erminio, la squadra di Maurizio mostra compattezza, spirito di sacrificio ed intensità, centrando una rimonta d'autore contro un avversario che pur con un punto in meno in classifica era in netta ripresa. Nelle ultime 10 gare aveva perso una sola volta. Il Teramo in un colpo solo ha cancellato lo scivolone interno di domenica con la Virtus Verona e ha ribaltato lo 0-1 della Gianna dell'andata. Le scelte. Maurizio schiera tra i pali Pacini in luogo di Lewandowski. In attacco spazio Sparacello, unica punta davanti a De Grazia che agisce da trequartista in luogo di Infantino. Il bomber è in panchina perché non ha smaltito del tutto il dolore al calcagno. Torna a centrocampo Spinozzi. Nella Gianna out per squalifica Bonalumi e Piccoli, uno squalificato anche nel Teramo Persia. Dirige Maria Marotta di Sapri. Tanti, forse troppi, i cartellini gialli sventolati ai giocatori. Cinque quelli del Teramo, per fortuna nessuno era diffidato. Pronti via e la Gianna si rende subito pericolosa. Al quinto, Pacini deve distendersi per disinnescare il colpo di testa di Perna. Dalla successiva calcio d'angolo però arriva il vantaggio della squadra milanese. Perfetto l'inserimento di Solerio che di controbalzo fa secco l'incolpevole Pacini. Il Teramo sbanda un po' anche per i ritmi forse nati imposti dalla Gianna. I biancorossi riescono a guadagnare campo senza incidere più di tanto, anche se l'atteggiamento costringe la Gianna a puntare solo sulle ripartenze. La caparbietà del diavolo viene premiata al 42esimo dopo che Proietti aveva già fatto venire qualche brivido alla difesa di casa. Traversone dalla destra calibrato di Spighi. Arriva di Gran Carriera Celli che si coordina ed esplode un sinistro potente che piega le mani alle uni. Un gran gol, il secondo stagionale per l'esterno di sinistra, sempre uno dei più positivi nelle partite del Teramo. Ripresa, padrone di casa subito vicino al raddoppio. Perna da pochi passi impegna Pacini in una difficile deviazione. Il bis invece lo fa il Teramo al nono. Nazione convulsa in area lombarda con Sparacello che trova il tapin vincente nonostante un disperato tentativo di salvataggio. Per la punta biancorossa si tratta del primo sigillo stagionale. La formazione di casa non ci sta e inizia a riversarsi nella metà campo del Teramo. I biancorossi tuttavia si difendono con ordine e sacrificio. Corrono sì qualche rischio ma la difesa stavolta è molto attenta riuscendo a respingere tutti i tentativi della Giana. Anzi nel finale Barbuti subentrato in corso d'opera potrebbe fare male di nuovo ma viene steso prima di entrare in area. Per l'arbitro è Rosso diretto ed espelle Montesano. La successiva punizione di Barbuti è senza esito ma che importa. Il diavolo si porta a casa a tre punti d'oro con le unghie e con i denti. Ora la zona che scotta è a quattro lunghezze.